Il risultato sembrerebbe dire che è stata una partita diciamo scontata e a senso unico. In realtà la lettura poi va diversificata nella prima mezz'ora dove noi siamo stati molto bravi, abbiamo fatto il doppio vantaggio e dovevamo fare secondo me oggettivamente un'altra segnatura con occasioni abbastanza clamorose e poi da lì secondo me è iniziata un'altra partita dove loro hanno già tutto per tutto, si sono aperti e noi specialmente all'inizio ripresa non siamo stati capaci di ripartire con convinzione, ci siamo fatti un po' schiacciare e ci sono state due o tre situazioni in cui la partita poteva essere riaperta. Quindi a leggere il risultato sembrerebbe una vittoria facile, in realtà la fatica è stata tanta specialmente nel secondo tempo dove praticamente abbiamo molto rincorso e poco attaccato che nel calcio succede, quindi direi che è stata una vittoria molto molto faticosa al di là e al netto del risultato che direbbe il contrario. Noi siamo in sesta posizione, adesso il nostro campionato sarà in tutti i modi mantenere questa posizione che ci consiglierebbe di fare, è un campionato straordinario e poi di non andare a infangarci in argomenti che ancora non sono chiusi però oggi con questa vittoria forse abbiamo un po' ipotecato quello che può essere il nostro futuro in direzione di salvezza tranquilla. Grazie a tutti.